Che volevi sapere com'era oggi? Eccola, eccola, guarda, eccolo, 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 sono a casa, sì, sono a casa, sì, sono a casa, sì, certo, casa è quello che è, però vabbè, allora, allora, stavolta, e tu, ma, 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 e tu. Le ho già le cuffie, che non mi dovevi faccio le cuffie, però. Ah, io, non so, sto registrando, non sto registrando, non ti ne ho colpito. E io, tu puoi essere. Oh, ma andrei fanno i coccoli a me tu?